Ci sono voluti i vigili del fuoco di Gubbio per svuotare la fontana dei giardini di piazza 40 Martiri a Gubbio ed accorgersi così di quanto necessitasse di manutenzione e pulizia. A questo da due giorni si stanno dedicando i ragazzi titolari delle borse lavoro degli Angels City e i tesserati del Rotaract, la sezione giovani del Rotary Club di Gubbio, rimossi fanghi ed alghe dall'invaso che da tempo attendeva una giusta manutenzione. Il quantitativo di materiale asportato è stato davvero imponente ed ora sistemata anche la griglia che si trova intorno, la vasca sarà nuovamente riempita. Sull'argomento non è mancata anche una zuffa social tra l'assessore alle politiche giovanili Gabriele Damiani che ha applaudito con un post su Facebook all'operato dei ragazzi e alle sinergie tra pubblico e privato. In questo caso il pubblico è il comune che ha stanziato 1.500 euro per queste borse lavoro, e il privato è il Rotary che con i suoi soci e sostenitori promuove l'iniziativa. Non sono mancate sul social repliche di cittadini ed esponenti politici che lamentavano in generale una scarsa manutenzione da parte dell'ente pubblico, manutenzione troppo spesso lasciata in capo ai volontari. Kerell a parte il lavoro degli Angels City proseguirà nei prossimi giorni a Porta Metauro, la porta d'ingresso alla città che guarda verso la gola del Bottaccione. Stamani un sopralluogo per vedere lo stato di conservazione del portale. Pochi Eugubini forse avevano mai notato la bellezza di queste ante, che ora sotto la supervisione dei falegnami Eugubini Minelli verrà sistemato anche dalle mani degli Angels. Intanto oggi il loro lavoro di ripulitura si è appuntato su una delle viuzze del quartiere San Martino per liberarla da scritte spray dei soliti sciocchi che imbrattano la città di Pietra.